Ciao a tutti ghiacciotti e benvenuti in questo episodio di FIFA 14 Oggi andiamo ad aprire dei pacchetti, dei pacchetti particolari Ho comprato dei crediti da fifagares.com, trovate sempre il link in descrizione Oppure digitate su realpower.com slash fifa Ci sono i pacchetti da 100.000 Con 24 giocatori, tutti oro o rari Ora, nell'ultimo episodio, nell'ultimo opening Ho avuto tanta sfiga Perché ho trovato un Toz, ma non valeva neanche 10k Un Toz che vale 10k, ma dove si vede? Nemmeno all'Uzor si vede un Toz che vale 10k Tu devo andare a cercare per avere un Toz che vale 10k 10k Quindi, in questo video Sarà piuttosto breve perché Apriamo solo questi Toz Spero di rifarmi un po' i soldi che ho perso l'ultima volta Pronti? Non vi ho sentito Bravi, partiamo Non vedo Non vedo, io non vedo Kel, chi è sta gente? Robinho Caballero Oka Song Fogliarella Madonna, Fogliarella Falcao 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 Madonna, che figo Falcao Higuaina Higuaina Attenzione Falcao Higuaina Questo pacchetto ha vinto Ha vinto Osvaldo Osvaldo Robona Sanchez Balotelli Balotelli Higuaina Falcao Falcao Mazzano 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 Questi via Inlein Ma in nevei sempre falloso Faccio troppi palli Caldino Red Kitsch Fabio Comente Bender Assaidi Smaling Koke Koke Guardado E Boateng, ma questo è il fratello di Boateng, no? O no? Non mi sembra Boateng E qua tutti i cosi Wow Direi che... Sono contento, sono contento E già che ce ne faccio vedere la squadra che mi son fatto Mi son fatto una squadra, ho 100% in intesa Che avete detto che la cosa essenziale da fare Mi son preso un pacchetto 100% in intesa, quello di roba, no? Faccio vedere la mia Rosa Rosa attiva Intanto 100% Allora in attacco c'ho C'ho Rooney Che figo Rooney Poi c'ho Fernando Torres C'ho Oscar Schrull Finchè non trovo qualcuno di più forte Poi c'ho Lennon Richards Cahill Terry Poi in mezzo qua c'ho Louis David Louis Ferdinand E poi Art in porta Il portiere non so come cazzo si chiami Coleman Vabbè Ora vediamo se io metto qua Falcao 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 Mec Falcao Falcao Però sono contento Cazzo dico 200.000 acrediti buttati nel cesso Va bene Per questo opening pack è tutto Io vi ringrazio per la visione Vi ricordo di lasciare un mi piace E di condividere il video Perché è il metodo migliore Che avete per supportarmi Io vi saluto Ciao Tutto tutti